Allora, quanto è importante per te l'istruzione artistica a Cagliari? Mi viene molto difficile rispondere a questa domanda, anche perché quando ho fatto una scelta di liceo, ho scelto il liceo classico perché quello artistico mi sembrava troppo facile. Ciò non mi ha impedito di fare comunque un percorso che qualcuno riconosce come artistico, quanto io abbia rifiutato questo termine. Però sicuramente è necessaria un'educazione nel momento in cui, più in generale e non solo relativamente a Cagliari, noi siamo invasi da immagini senza avere nessuna capacità di lettura critica. La gente tende a rappresentarsi, a autorrappresentarsi, piuttosto che a vivere gli eventi a cui si avvicina. In tal senso è sempre importante un'educazione, è uno degli aspetti rivoluzionari oggi insieme a quella che già Marx definì, la pazienza e l'ironia come gli elementi fondamentali della rivoluzione. e quindi il liceo artistico di Cagliari quanto può seguire relativamente a un corso di studi di questo tipo.